Non siamo ancora al momento delle firme, ma la trattativa tra il presidente del Teramo Franco Iacchini e i fratelli Mario e Davide Ciaccia per la vendita del club sembra essere entrata nella fase cruciale. Oggi incontro nella capitale tra i tre per definire le questioni di Rimenti il buon esito del passaggio di proprietà. Ma la novità vera delle ultime ore è che l'affare non si chiuderebbe per il 51% lasciando a Iacchini il 49% come era stato paventato, ma con una quota a favore dei Ciaccia vicina se non pare alla totalità. Questo cambierebbe di molto gli scenari perché non si tratterebbe più di una coesistenza ma di un vero e proprio cambio di scenario con gli imprenditori fiuggini già disposti a prendersi per intero il diavolo. Quello dell'addio non è argomento completamente nuovo per Iacchini. I discorsi infatti erano nati in estate quando l'attuale massimo dirigente con una nota fece balenare l'idea di lasciare un progetto calcistico nel quale evidentemente si riconosceva poco. L'appuntamento è per oggi dentro o fuori anche se i Ciaccia non sono l'unica pista su cui si è lavorato in gran segreto in queste settimane. Perché nell'ambiente capitolino Iacchini ha avvicinato altri due gruppi che allo stato attuale sembrano più defilati rispetto ai proprietari della Emgat Italy in pole per continuare un percorso che passerà certamente per un rinnovamento dei ruoli all'interno del sodalizio. Il punto nodale è uno e lo era stato anche in estate. La valutazione del Teramo in relazione alle spese sostenute negli anni dall'attuale presidenza un ostacolo sul quale si erano incagliati i discorsi qualche mese fa. I contratti in scadenza e non rinnovati e una politica fatta di acquisti a titolo temporaneo tuttavia hanno snellito i conti di un Teramo adesso certamente più appetibile per chi desidera comprare al netto della valutazione appunto che ne fa l'attuale proprietario. Se fosse confermata l'acquisizione della quasi totalità del club i Ciaccia si occuperebbero sia della parte tecnico-sportiva che sarebbe stata in capo a loro anche col 51% ma a questo punto anche dell'intera amministrazione del Teramo. La tempistica poi porterebbe ad un cambiamento vero e proprio nel 2022 forse anche a partire dal gennaio di mercato quando il diavolo potrebbe pensare di fare qualche investimento per il consolidamento dell'organico oppure al più tardi il nuovo corso vedrà la luce in maniera concreta solo a partire dalla stagione prossima. Ma questi sono discorsi potenziali che passano dal buon esito meno della trattativa odierna. Intanto a Teramo una tifoseria attende sviluppi, il campionato almeno in questa fase passa per un attimo in secondo piano.